Giuliano è diventata una città totalmente morta. Io passeggio il sabato sera accompagnando mia figlia, dopo le 10 è il deserto assoluto. Per quanto riguarda la chiusura delle attività commerciali, logicamente chi viene a investire su questo territorio se non ci sono iniziative da parte dell'amministrazione, non solo dell'amministrazione, ma anche degli stessi commercianti per dare vivacità alla movita del territorio del centro storico. Ci vogliono iniziative che tendono a ravvivare un po' il centro storico perché negli ultimi anni abbiamo avuto una decadenza. L'ATL sicuramente, col tempo, perché non è una cosa dalla sera alla mattina, sicuramente potrebbe aiutare, però certamente noi da tempo chiediamo un piano traffico. Qui non viene più nessuno, al centro storico non viene più, ma io ho terrore a venire qui, io ho un negozio da 22 anni qua, io ho il terrore la mattina, si c'è una minuta e è finita. Macchine in doppia fila, terza fila, comandano loro, fai degli innamorati, per non parlare poi della situazione delle colonne. C'è due cantieri aperti in pochi mesi e non si vede proprio via di uscita. Io penso che sia anche un po' colpa dell'amministrazione che non ha saputo gestire i primi due anni del suo mandato. Si deve fare intanto ritornare nell'albio naturale, quindi sui tavoli istituzionali, incontro permanente con le associazioni dei commercianti affinché questa situazione di agonia che vive il commercio giulianese, ma la stessa città, possa trovare un attimo un respiro. Sicuramente la ZTL, per quanto riguarda la GLAI, noi non siamo favorevoli perché non è un viatico o un momento di ripresa della città. Sono anche l'assessore che ha curato dall'inizio anche la questione ZTL. Fra pochi giorni il comando è in grado anche di firmare il contratto con la ditta che ha vinto l'appalto. Ho preparato anche il regolamento, insieme al comando Vigi, il regolamento per il funzionamento della ZTL, che è stato proprio ieri licenziato in commissione, quindi andrà quanto prima nel prossimo Consiglio Comunale, non quello del 28 perché la convocazione è già partita, quello successivo andrà in Consiglio Comunale. Per cui una volta approvato anche il regolamento, nel frattempo il comando stipulerà il contratto e quindi siamo pronti anche per l'anno prossimo a partire con la ZTL.